Verrà cantierizzata a breve l'area di Piazza Palazzo con il tratto di via Roma, interessati dalla riqualificazione con fondi del PNRR. È stato appena approvato il progetto esecutivo che è da là all'inizio dei lavori, perché con la stessa procedura il Comune ha affidato sia la progettazione esecutiva che l'esecuzione vera e propria dei lavori. Progetto integrato e modificato, perché d'accordo con la soprintendenza si è scelta a pietra grigia per lo vale della piazza, bianca attorno. A livello di viabilità sarà un problema ulteriore, perché l'area a ridosso di Palazzo Margherita vedrà sacrificati altri parcheggi. Lì ci sono soprattutto quelli dei residenti. In realtà il settore ancora non prende una decisione su come organizzare la viabilità. Di certo c'è che con una recente ordinanza la Polizia Municipale ha interdetto l'area adiacente a Palazzo Margherita dalle automobili. L'appalto è importante, da 1.650.000 euro. Con la gara a procedura negoziata il tutto è stato affidato ad una società aquilana, la GC Appalti. L'intervento è conseguente alla realizzazione dei sottoservizi allo scopo di ripristinare le pavimentazioni presenti in centro, oltre a sistemare la pubblica illuminazione. Sarà rimossa la pavimentazione esistente e sarà rifatta quella nuova. La scelta iniziale delle pietre è stata modificata successivamente, come si diceva. Per la piazza ci saranno quindi dei cubotti a spacco in basalto grigio-uraniano, disposti in modo tale da riconfigurare le geometrie e gli spazi pedonali accessibili rispetto a quelli delle aiuole. In corso Principe Umberto e nei percorsi intorno all'ovale della piazza sarà posizionata una pavimentazione in basalto di pietra a gran perlato italiano, a spigoli scantonati di tre diverse lunghezze. Sono previsti poi elementi con superficie a rilievo tattile per dare la possibilità di uno spazio fruibile per utenti non vedenti e povedenti. Sarà adeguata l'illuminazione. Come il sistema di smaltimento acqua e piovane, saranno previsti nuovi arredi, saranno installati totem tattili. La ditta provvederà a riqualificare anche i servizi igienici esistenti, con tanta attenzione alle persone con disabilità. È prevista la rimozione delle rampe di accesso con la realizzazione di una nuova scala collocata lateralmente rispetto alla piazza con un montascale. I bagni, insomma, saranno rifatti ex novo. Le modifiche rispetto al primo progetto hanno comportato soprattutto per i bagni un aumento del costo dell'opera di 400 mila euro, ma si rientra comunque nelle risorse del PNRR.